Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Amadeus ha perso la sfida con i soliti ignoti, ma non ha avuto la meglio con Affari Tuoi. La Rai ha annunciato che il quiz show rimarrà sul primo canale fino al 2027, nonostante il cambio di conduttore con Stefano De Martino. Il comunicato ufficiale della Rai ha confermato che Affari Tuoi continuerà per altri tre anni e che sono stati approvati i contratti per le edizioni del triennio 2024-2027. Inoltre, sono stati acquisiti i diritti non esclusivi per gli highlights del campionato di Serie A per lo stesso periodo. Il programma si trasferirà da Via Le Mazzini a Via Alessandro Severo, insieme alla sede direzionale temporanea. Questo cambiamento è dovuto a interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare dell'azienda. Nonostante il successo di Affari Tuoi, la presenza di un nuovo conduttore potrebbe influenzare gli ascolti. Tuttavia, la decisione di mantenere il programma sul primo canale fino al 2027 è stata accolta con entusiasmo dai vertici della Rai, tra cui la presidente Marinella Soldi e la di Roberto Sergio. In conclusione, Affari Tuoi è al sicuro per altri tre anni, ma il futuro del programma rimane incerto. Resta da vedere se il cambio di location e di conduttore avrà un impatto positivo sugli ascolti.